Sanità, la multidisciplinarietà nella nuova frontiera in geratria. Un incontro formativo tra infermiere e medici nelle seguenti discipline, cardiologia, ematologia, endocrinologia, geratria, malattie metaboliche e diabetologia, malattie dell'apparato respiratorio, medicina e chirurgia di accettazione di urgenza, medicina fisica e riabilitazione, medicina interna, neurologia, reumatologia, urologia, medicina generale, medici di famiglia, epidemiologia per dare avvio a un nuovo percorso geriatrico nel Seracusano. L'obiettivo formativo del corso è fragilità e cronicità, minori e anziani, dipendenze da stupefacenti, alcol e ludopatia, salute mentale, nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari e socioassistenziali. A Ficimino, direttore dell'unità operativa della geriatria dell'ospedale Umberto I di Seracusa, siamo in procinto fra una quindicina di giorni di avere l'opportunità a Seracusa di avere un importante evento organizzato dall'Ordine dei Medici, organizzato anche dall'AIP e naturalmente altre sigle importanti del settore che si parlerà di geriatria. Sì, grazie. Diciamo che in pratica si tratta di un evento che l'Ordine dei Medici ha voluto promuovere e che rientra tra le iniziative culturali e scientifiche che l'Ordine dei Medici sta promuovendo nell'ambito dell'anno 2024. Tra gli appuntamenti che sono stati riservati alla geriatria abbiamo questo, il giorno 25 maggio, che sarà ovviamente di estrema importanza e di estrema attualità perché vorrà ribadire la centralità della geriatria nel panorama della sanità siciliana e italiana e quindi vogliamo un attimino realizzare questo evento che oltre ad avere il patrocino della CGG, della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia, avrà anche il patrocino ovviamente dell'Ordine dei Medici e per la prima volta anche dall'AIP, dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria, perché abbiamo voluto dare anche un taglio particolare a questo evento, coinvolgendo anche altre figure specialistiche e soprattutto affrontando anche problematiche che rientrano nell'ambito del declino neurocognitivo che molto spesso interessa gli anziani. Quindi si tratta di un evento sicuramente importante che ribadirà la necessità che venga mantenuta alta l'attenzione su una disciplina come la geriatria che riveste un ruolo importante e strategico, basti pensare all'inverno demografico che interessa non soltanto il nostro Paese ma oramai un po' tutto il mondo avanzato, basti pensare appunto al numero esponenziale di anziani che oramai affollano i nostri pronti soccorsi e le nostre corsie. Per cui è importante appunto che l'attenzione sulla geriatria venga sempre mantenuta particolarmente alta e attenta. Senta, Dottore Cimino, lei è stato Presidente responsabile all'ello regionale della geriatria di questo settore importante. Siracusa in questo contesto regionale che ruolo riveste? Siracusa continua a rivestire sempre un ruolo particolarmente importante in quanto noi facciamo di tutto appunto per mantenere alta l'attenzione della nostra disciplina nell'ambito del panorama sanitario. Ovviamente è chiaro che da parte nostra come società scientifica regionale di cui attualmente io ricopro il ruolo di pasto e Presidente facciamo tutto il possibile affinché a livello di assessorato ci sia la dovuta attenzione e nel riordino della rete ospedaliera ci sia la giusta attenzione nei confronti della nostra disciplina perché i nostri esporti sono affinché appunto la disciplina geriatria sia presente almeno in tutti i principali comuni capoluogo di provincia. Non può essere accettabile nel 2024 che continuino ad esserci province dove i reparti di geriatria, la disciplina della geriatria e gli ambulatori specialisti di geriatria non siano presenti di fronte a un numero esponenziale altissimo di pazienti anziani che chiedono cure e attenzioni specialistiche. Senta, dottor Cimino, nel rapporto di interdisciplinarità nell'ambito sanitario si raccusa come messa? Si raccusa è messa bene perché in pratica noi grazie a Dio abbiamo un'ottima collaborazione un ottimo confronto con tutte le figure specialistiche con gli internisti innanzitutto ma anche in pratica con i neurologi. Diciamo che in pratica i geriatri si collano come quella figura medica di cerniera tra l'internista vecchia maniera e il neurologo super specialista e in quanto il geriatra è anche l'internista dell'anziano ma è anche la figura specialista che si occupa del paziente anziano con declino cognitivo. Quindi la nostra è una figura professionale in pratica a metà strada tra appunto la figura internistica e la figura del neurologo. Si guarda lontano riportando soprattutto la qualità della vita dell'anziano? Certamente, noi non ci sangheremo di dire che l'anziano di oggi non è l'anziano di 30 anni fa e che quindi in pratica il 75enne e l'80enne di oggi merita un'attenzione particolare delle cure specialistiche appropriate e non può essere chiaramente in pratica materia da rotta mare. Senta, dottore Cimino, è subentrato il nuovo commissario provinciale naturalmente che cosa pone, che cosa vi aspettate, quali sono le aspettative di questo nuovo commissario? Ma noi guardiamo con grande fiducia e attenzione all'operato del nuovo commissario e presto direttore generale della nostra ASPE, ingegnere Caltagirone che ho già avuto il piacere di incontrare per rapporti istituzionali. Sono convinto in pratica che da parte della direzione strategica ci sarà la dovuta attenzione nei confronti del mondo degli anziani e nei confronti della generale in modo particolare. Ritengo in pratica che un direttore generale illuminato non può non avere attenzione nei confronti di un mondo come quello degli anziani che aumenta in modo esponenziale e che chiede giustamente dopo una vita del lavoro attenzione e rispetto.